Allora a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video sul vostro elicottero. Allora... Grazie mio. Il numero 9 della blacklist è brutto. Ha sentito l'eccitazione che c'è in giro e corre voce che non è sicuro di poterti battere. Scavalcalo subito e è solo che ti puoi impedire di arrivare a Rockport. Risolviamo questa storia al più presto. Grazie Rock. Si parte per la nuova avventura. Affrontiamo il numero 9. Finalmente affronterò il numero 9 della blacklist. Sarà difficile. Non ho niente. È impossibile. Ok. 3, 2, 1, ciuccia. Via. Fate le tere. E si parte con il numero 9. Ecco. Già mi passa davanti. Non va bene. Non va bene. Non va bene. La sfida. L'autovelox. La prima sfida è sull'autovelox. Anche se sono... Ok. Sono primo anche se sono secondo. Però non va bene. Devo essere il primo io. Quello è già andato avanti. Che è già andato avanti? Ah no. Già l'ha... Ah no. Ok. 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 Non ho mai usato il nose. Se non faccio le basse. Silenzio. Facciamo... Nos, nos. Ok. Sono primo. Ok. Io quando arrivo all'autovelox uso il nose. Per aumentare la velocità. E il chilometraggio. E il chilometraggio, sì. Ah dai. Lo uso tutto. Più bene. Però se... Se lo uso tutto, va bene. Non sono primo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Questo pezzo di... Vai con il nose. Ok. Minchiavo. Sono il re. Ho vinto. Ho vinto la prima. Adesso il giro completo. E poi è fine. Ho vinto. E gli rubo la macchia. Così la mia collezione aumenta, 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 aumenta. Come prima. Se è partito... Ed è il davanti. Tanto vinco sempre io. Ehi. Andiamo, andiamo, andiamo. Dove sei? Ah, ecco. Ma cos'è? Un potere? Che sparisce e poi appare. Cioè, sparisce e poi appare. Ma cazzo. Va dai. Va dai. Intanto sono primo, eh. E poi l'ha attaccato dietro. Vai. Cioè, usa il nostro, io lo uso anche lui. Mi sa tanto di sì. Se vuole raggiungere. Però l'ho lasciato dietro, eh. Ammazza se l'ho lasciato dietro. Cioè, l'ho già vinto a sto punto. Cioè, posso vedere la mappa. Guarda dov'è. Guardalo dov'è. Che è dietro. Molto dietro. Cioè, l'ho già vinta io sta partita. La parola sua. E' mia dai. L'ho già vinta. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Cioè, l'ho lasciato dietro, dietro, dietro. Cioè, l'ho visto la macchina. Sembrava un volito da paura. In realtà è un cattorcio. Ma dai, raga, mi sto confrontando con un cattorcio di macchina. Andiamo. E' vittoria facile. Cioè, ho vinto facile. Raga, ho vinto facile. Cazzo devo dire. E' vittoria facile. Cioè, l'ho lasciato dietro. Guardate un po' voi. Guardate dove sono io. Dov'è lui? Ho vinto io. Ho vinto io. Dai, ma dove si fa? Come si fa? Un cattorcio di macchina. Io mi devo confrontare con un cattorcio di macchina. Mi hai raggiunto. Bravo. Però ti avevo lasciato dietro, dietro, dietro. Non hai raggiunto. Non ti sei arreso. Bravo. Mi faccio i miei complimenti. Veramente. Mi faccio i miei complimenti. Ok. Cioè, vincere saltando. Vabbè. Ho vinto. Toglio facile. Ma devo affrontare il lotto. Io sono il numero 9 adesso. Devo affrontare il lotto. Posso dire che con tutta sincerità, non mi piace questa martina ora. Mi piace. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, mi piace, link e descrizione nei miei social. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto.